dopo aver fatto la storia della musica in italia raccogliendo un successo incredibile con il primo evento di musica leggera all'interno del teatro della scala paolo conte torna il 20 maggio 2023 al teatro arcimboldi di milano poi lo vedremo sul palco dell'umbria jazz il 15 luglio all'arena santa giuliana di perugia e in piazza della santissima annunziata a firenze per il musart festival il 21 luglio